Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo video andremo a vedere come si fa questo punto il punto operato, io l'ho chiamato il punto operato original perché il punto operato che io ho spiegato la prima volta, a mio parere non è il punto operato quello giusto perché diciamo che è una variazione secondo me il punto operato che ho spiegato la prima volta del punto peruviano, invece ho trovato questo perché sul web non si trova il punto operato come ho spiegato anche nell'altro video e ho trovato quest'altra spiegazione che non avevo mai visto in giro e questo è il risultato, tutte queste bollicine che si vedono formano il punto operato, quindi andiamo a vedere come si fa, innanzitutto io penso da quello che ho potuto capire da questa spiegazione anche se non c'era scritto, che il punto operato si esegue su un numero di punti pari più 1, quindi anche un multiplo di 2 più 1, comunque l'importante è che il numero sia pari e poi ne aggiungete 1 per farli diventare dispari, io in questo caso ne ho messi su 13 più 2 di vivagno 15, poi un'altra cosa da dire su questo punto che si esegue su 4 ferri e dal quinto si ricomincia da capo, quindi il primo e il terzo ferro si faranno uguali, il secondo e il quarto avranno una piccola variazione, allora il primo ferro si lavora così, facciamo il vivagno, una cosa, cercate di lavorare con una lana e dei ferri un pochettino leggermente più grossi magari di quello che richiede la lana perché è un punto se no troppo stretto e si fa fatica a lavorare e quindi anche di lavorare molto morbidi, allora il primo ferro si lavora tutto così, allora si entra a diritto nel primo punto, lo lavoriamo a diritto ma non facciamo cadere il punto e andiamo a prendere un'altra volta, prendiamo il punto a diritto ritorto e lavoriamo un altro diritto dentro, quindi abbiamo aggiunto un punto sul ferro, è un aumento questo che vi ho fatto già vedere ma non l'ho ancora pubblicato nel poncio che ho fatto e per gli aumenti ho usato questa tecnica, quindi praticamente entriamo, lavoriamo un diritto, non facciamo cadere il punto, riprendiamo il punto a diritto ritorto e lavoriamo un altro punto, quindi tutto il ferro dovremo lavorare così, un diritto senza far cadere il punto, entriamo e lavoriamo un altro diritto, aumentiamo in ogni punto un punto, una volta lo lavoriamo a diritto normale, la volta dopo entriamo a diritto ritorto e lavoriamo un altro punto, sono tutti aumenti questi che stiamo facendo, quindi un diritto normale, non lasciamo cadere il punto, rientriamo prendendo il punto al contrario, quindi a ritorto e lo lavoriamo, un diritto, poi entriamo da dietro e lavoriamo un altro diritto, non facciamo cadere il punto, rientriamo da dietro a ritorto e lavoriamo un altro diritto, un diritto davanti e un diritto dietro, quindi ogni punto andrà lavorato due volte, sempre a diritto, ma uno dal lato normale e lavoriamo a diritto normale, l'altro lo prendiamo come se dovessimo entrare a ritorto, un diritto, rientriamo da dietro e lavoriamo un altro diritto, diritto, no, facciamo cadere il punto, entriamo da dietro e lavoriamo un altro diritto e adesso facciamo cadere il punto, questo era il primo ferro, adesso il secondo ferro chiaramente, visto che abbiamo aumentato i punti, li abbiamo praticamente raddoppiati, in questo caso cosa facciamo? Il secondo ferro andrà fatto così, dobbiamo diminuirli un'altra volta, quindi dobbiamo farli tornare al numero di punti che avevamo sul ferro prima, quindi lavoriamo due punti insieme a diritto, due punti insieme a rovescio, questo per quello che vi dicevo prima, lavorate in modo morbido perché se no fate fatica a prendere i punti, quindi questi due li lavorate, adesso vabbè io li ho fatti passare, devo rimetterli sul ferro, scusate, li prendete a rovescio tutte due insieme e li lavorate insieme a rovescio, poi ancora due diritti insieme e li lavorate insieme a diritto, poi lavorate due insieme a rovescio, così per tutto il ferro, iniziamo con due diritti insieme, due rovesci insieme, due diritti insieme, alternando, però si comincia il ferro con due insieme a diritto e si finirà questo ferro con due insieme a diritto, quindi adesso abbiamo fatto due insieme a rovescio, andiamo a fare due insieme a diritto, due insieme a rovescio, 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 due insieme a diritto. E adesso abbiamo praticamente gli stessi punti che avevamo all'inizio, questo è il rovescio perché è il nostro vivagno. Il terzo ferro andiamo a farlo quindi come abbiamo detto come il primo ferro, abbiamo raddoppiato i punti, quindi lavoriamo il nostro vivagno normale, poi su ogni punto lavoriamo un diritto, poi rientriamo nello stesso punto dal dietro e lavoriamo un altro diritto, di nuovo un diritto senza far cadere il punto, entriamo dal dietro quindi come se avessimo preso il punto a diritto ritorto e lavoriamo un altro diritto, poi facciamo cadere il punto, diritto, entriamo a ritorto e lavoriamo un altro punto nello stesso punto, quindi lavoriamo due punti nello stesso punto, uno davanti e uno invece dietro, uno davanti e uno entrando da dietro. Quindi praticamente entriamo davanti e facciamo un punto, non facciamo cadere il punto, entriamo in mezzo, vedete, qua, tra i due fili, usciamo dal dietro e lavoriamo il diritto, quello è il diritto ritorto, se vi ricordate, se avete visto il video del diritto ritorto, o scusate qua non so se ho lavorato due, sì? Se vi ricordate il video sul diritto ritorto si lavora proprio così. Ok, diritto, ricordatevi di farne due in ogni punto, se no poi dopo al ritorno, nel giro successivo abbiamo i punti sbagliati. E l'ultimo sarà un vivagno. il quarto ferro è uguale al secondo, ma cambia di una cosa, mentre il secondo ferro abbiamo iniziato con due maglie insieme a diritto, nel quarto ferro inizieremo, vabbè facciamo il vivagno, e inizieremo invece con due maglie insieme a rovescio, quindi l'unica cosa che di differenza dal secondo al quarto ferro è che nel secondo partiamo con due insieme a diritto e finiamo con due insieme a diritto, nel quarto ferro invece iniziamo il ferro con due insieme a rovescio e finiremo poi il ferro con due insieme a rovescio. Adesso facciamo due insieme a diritto e ripetiamo questa cosa per tutto il ferro. Quindi due insieme a diritto e adesso andiamo a fare due insieme a rovescio. Due insieme a diritto, due insieme a rovescio. Due insieme a diritto, due insieme a rovescio. Due insieme a diritto, due insieme a rovescio. e finiamo con lo rovescio. E finiamo con lo rovescio. e dal quinto ferro si ripeterà dal primo ferro. Quindi il quinto ferro si ripete dal primo. E quindi questo è il nostro punto operato. spero che anche questo video vi sia stato utile, spero che il fatto che ho rifatto il video sul punto operato possa servire a capire appunto questo punto che su internet non ho trovato, con questo nome per lo meno. E fatemi sapere nei commenti e al prossimo tutorial. Ciao!